Signori, ci siamo! AAAAAH! Iniziamo male, brutto figlio di puttana! Mi serve il tuo ardo, per ucciderti. Oh, cazzo. No, mancato, shit. Preso. No, non sputano i vermini, ti prego. Oh, grazie. Ti schiaccio un altro po'. Il tuo rumore è strano. Oh, merda. Ah, è quello. Vabbè, siamo a distanza. Ups. Guardate! Non ci credo. Vabbè, si fotta. Prendiamo questo. Olì. Hello. Mio. Il nodo. Mmh, vediamo se c'è altro. No. Fuh. Le cazzo! Toh. Ciao, braccio. No, non ti inchinare. No. Minchia, mi servono emulizioni. Che cazzo me ne faccio della Stati? Ehi. Vabbè, quello non mi disturba. Questo sì. Thank you. Ah! Ancora! Toh. Toh. Minchia, ancora vivo. Toh, cadaveri. I tuoi simili. Ah, no! Ok. Devo muovermi. Sento... altri rumori. Eccolo il bastardo. Vabbè, gli sparo. Ok, ora dovrebbe essere libero. Oddio, guardate! Oh, merda, che cos'era quello? Pararira! Oh, Gesù. Sono perso non vivo. Oh, Gesù. Che schifo. Ma io non mi fideria a tenerlo. Oh, merda. Oh, Gesù. No, non ci credo! No! No, no, no. Dopo rifaccio questa scena. Ve la devo far rivedere. No. Oddio. Oddio. Non gominate i disastri. Che sembra una sorta di asilo. signora maestra? Tutto ok? No, non è ok. Oh! Non, no! Merda, non mi danno neanche... Toh! Mi posso usare per lanciarli. Shit. Che schifo. Beh Oh merda E' figo il fatto che comunque sia Hanno usato anche i bambini Cioè molti ad esempio i bambini non li usano come mostri Invece I programmatori non sono messi problemi Ooooooo 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 Qualcun altro? Ok No e basta Ok Allo allo Madonna forse è meglio se inizia il museo Questo fucile ha tantissime munizioni Dobbiamo risparmiarla per la pistola Ok di qui No Ah c'è un punto di salvataggio Text log Buona lettura Ok Kit Niente Gente è morta Kit Salviamo un attimo Ok Ci restiamo Oh Oh Merda Merda Ho visto una manta Bastarde Le mante Uno skate Non mi piace Non mi piace Ah Toh Toh Mancato Mancato Aspetta un attimo che ricarico Sono molto fragili Basta un pugno anche Gli uccidi come Come nulla Prendiamoci questo No E questo che cazzo è Oh merda Oh merda Mi sputa anche lui Aspetta devo ricaricare Stronzo Grazie Molto umano Kit media Non me lo fa prendere What the fuck Molto umano Non più di tanto Ma umano Ok Come umano Lei Chi lo diceva Non lo sapete Crediti Oh guardate questa Che cos'è Insomma cosa di stasi Boh Mi pare La lasciamo qui Oh Non so Così Tanto par Oh Cazzo Tammato a sole Ok Vai Uno No Ah merda Dovevo iniziare Ok Uno Due Tre Ale Cosa faccio con questo Non lo so Ah Beh figo Dove si va ora Questo silenzio non mi piace Cazzo Cazzo Merda E' una del mitra C'è ancora fottuta Manda E sta già trasformando Puttana merda Qualcun'altro si vuole offrire Sì Avanti signori Ce n'è per tutti Ok Sono tutti morti Ok Piazza pulita Beh non c'è più nulla Quanto sangue Gli armadietti Mio Mio No Sto iniziano a non avere più spazio Riprendiamoci il fucilone Mo Ok Porca troi Che bello Text log Buona lettura raga Oddio Sembra quello dello zoo di 105 Quello là Questo qua in foto Ok Oh Guardate cosa c'è Schermo Ma perché non me lo fa prendere Ah ecco perché ho troppa merda Guardate quanti cazzo di kit ho Cosa possiamo mollare Prendiamo un kit Mi serve lo schema Credo Ma vaffanculo Lo schema ce l'avevo già Ecco come fare i coglioni Allora Lasciamo Mille crediti Quanti ne ho a proposito? Sette mila Oddio Sono povero Oh No Gente esaurita Dobbiamo Dobbiamo riaprire i manicomi Per questa gente Ok Via Ragazzi Ho trovato qualcuno Oh non gli ando spesata Fuori Eh fuori Come cazzo fa sopravvivere Quel coglione Come cazzo fa sopravvivere Non ho un'arma È solo un pirla Che fa in giro così Ho problemi Io sopravvivere E non è a lui Boh Eh dai Ma dove cazzo ti mandano L'imparatiso Oh Io ti ringrazio Ok Ok Beh ragazzi salviamo But I'm fading But I'm fading But I'm fading But I'm fading